Buongiorno a tutti, sono Minea Lazar, vengo dalla Slovenia, da Caporetto e frequento la quinta B del liceo classico europeo. In questi cinque anni ho imparato molto bene l'italiano grazie ai miei compagni di classe, anche agli amici in convitto e a tutti i professori che mi hanno sempre aiutata quando mi trovavo in difficoltà con la lingua e si sono sempre fatti disponibili quando ne avevo bisogno. Buona fortuna a tutti!